partiti al comando si porta Unisol con a ridosso Rothmeier in terza posizione a qualche lunghezza segue Schirles Kitten a precedere Fakir con in coda Christian Love cavalli ora lungo la retta opposta dopo circa 500 metri di corsa con Unisol che conduce sempre nei confronti di Rothmeier a circa 6-7 lunghezze insegue il gruppetto degli inseguitori capeggiato da Schirles Kitten quindi Fakir e Christian Love lungo la retta opposta non avvengono cambiamenti e lo schema tattico è inalterato con Unisol leader tallonato da Rothmeier a qualche lunghezza sempre Schirles Kitten in terza posizione a precedere Fakir e Christian Love così siamo arrivati all'imbocco della curva di fondo che Unisol affronta sempre al comando con in schiena Rothmeier non accena a diminuire il distacco col terzo che è Schirles Kitten quindi Christian Love che ha scavalcato Fakir siamo prossimi all'ingresso in retta di arrivo con Unisol e Rothmeier che sono sempre in vantaggio ora Schirles Kitten riduce leggermente il divario e si sta avvicinando trascinandosi Christian Love Siamo in retta d'arrivo con Unisol in progressione allo steccato sempre in vantaggio su Rothmeier a qualche lunghezza in segue Schirles Kitten con all'esterno Christian Love siamo a 350 dal palo ancora Unisol in vantaggio Rothmeier ci prova al suo attacco cerca di avvicinarsi anche Schirles Kitten ma c'è lotta tra Unisol e Rothmeier che proseguono testa a testa all'interno Unisol a largo Rothmeier lotta incertissima tra i due fin sul palo tra Rothmeier a largo e Unisol all'interno vicinissimi sul palo davanti a Schirles Kitten e Fakir rivediamo le immagini sperando di poter decifrare questo incertissimo arrivo tra Unisol all'interno e Rothmeier a largo c'è lotta incertissima testa a testa fin sul palo l'impressione è che potrebbe avercela fatta Rothmeier con Andrea mezza testa ma sono vicinissimi sul palo quindi 4-5 aspettiamo il risponso del giudice d'arrivo con al terzo posto il 3 di Schirles Kitten i piedi si è in 0-5 aspettiamo il risponso del 2 di Schirles Kitten Grazie a tutti.